Una città in ginocchio per la crisi idrica che attanaglia a Caltanissetta da ben 13 giorni. La distribuzione dell'acqua prosegue a macchia di leopardo e alcuni quartieri sono a secco da oltre 5 giorni. Il centralino di Caltacqua continua a suonare a vuoto pochi coloro che riescono a parlare con un operatore per avere risposte sull'erogazione idrica e le turnazioni, mentre i cittadini sono costretti a sborsare denaro per rimpinguare i loro serbatoi ormai a secco con le autobotti. Un silenzio assordante quello di Caltacqua, Sicilia Acqua e le istituzioni che nisseni non sembrano più tollerare, pronti a rimenticare i loro diritti rivolgendosi anche alle autorità competenti. Il sindaco Giovanni Ruvolo sempre intanto essersi deciso ad informare della situazione il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, il quale ha convocato nel pomeriggio Sicilia Acqua e Caltacqua al lato idrico l'assessore Vagna Contraffatto e la protezione civile, oltre al primo cittadino, per affrontare la questione e superare immediatamente le criticità. Caltacqua intanto assicura che la turnazione idrica rientrerà nella normalità entro questo fine settimana. Riparato il guasto della condotta Madoni Est nei pressi di Santa Caterina, giovedì saranno intanto servite le zone Sant'Elia, Balate, Paladini, Gibilapib e Firrio.